ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di mitemistri scp oggi parleremo della scp 1265 chiamato anche la riserva del mesozoico secondo me questo sarà anche una scp è abbastanza interessante anche se non è tanto famoso caso dell'oggetto euclid questa è una foto di un esempio di scp 1265 a immagine ottenuta da una fotocamma all'interno di scp 1265 foto dell'agente helen benedetto procedura speciale di contenimento il sito 1265 contenente scp 1265 deve essere gestito pubblicamente come una riserva naturale da iniziativa per un pianeta sicuro e pulito una società di faccia della fondazione le scoperte scientifiche effettuate dalla fondazione riguardo gli esseri viventi all'interno di scp 1265 possono essere se pubbliche solo dopo che sono stati rivenuti i fossili con le prove relative a esse ai civili che desiderano viaggiare attraverso scp 1265 non essere somministrati degli ammessi di classe d per fare un modo in modo che si dimentichino dei semperdi scp 1265 a con cui verranno in contatto a tutti civili a cui non si è stato fatto il trattamento e che hanno avuto un contatto con degli scp 1265 a gli devono essere somministrati degli ammessi di classe a gli saranno impiantati dei nuovi piccoli e in seguito verranno rilasciati ogni sei mesi le uova deposte dagli semperdi scp 1265 a devono venire raccolta per essere incubate e studiate fino a quando una volta giunte a maturità non verranno rilasciate nella natura le procedure compete per la cura dei cuccioli di scp 1265 a includono il processo di in printing e vedere il documento 1265 i oppure l descrizione scp 1265 è un apprezzamento di terreno di forma regolare con una superficie di 50 km quadrati che si trova all'interno del pacino di fiume congo in africa la maggior parte del scp 1265 si trova nel territorio della repubblica democratica del congo mentre circa 15 km quadrati sono situati all'interno dello stato confinante della repubblica del congo scp 1265 in gran parte disabitato a parte qualche villaggio tribale e vi si trova la flora tipica del bacino del congo scp 1265 abitato da diverse specie animali ritenute stinte appartenenti per la maggior parte della clade di dinosauria questi animali che vengono tutti classificati come scp 1265 a appaiono spontaneamente in gruppi di cinque una volta ogni 30 giorni circa e non appartengono necessariamente alla specie dei fossi ritrovati in africa invece sembra essere stati selezionati in base al clima in cui viviamo nell'era mesozoica gli esempi di scp 1265 a non sono in grado di lasciare scp 1265 lo dà che una volta superato il confine di scp 1265 essi materializzano e ricomparono privi di sensi in un'area nel raggio di tre chilometri del confine in orte di scp 1265 non vengono selezionati in base a un particolare periodo del mesozoico anche se quali più rappresentati sono il cartaceo e il giurassico con sparute popolazione di dinosauri del periodo triassico si è conoscente della presenza dell'altintento scp 1265 di molti rettili non saurischi come i pterosauri ma non si riesce a vederli di frequente gli esemplari di scp 1265 a anche i carnivori non mostrano aggressività o paura nei confronti degli esseri umani a meno che non vengono provocati fino ad oggi tutti e tre i membri del personale della fondazione morti all'interno di scp 1265 sono stati uccisi dopo aver provocato accidentalmente un elemento di scp 1265 a piuttosto che essere stati predati da scp 1265 a carnivori in particolare ci sono pochi dinosauri carnivori o erbivori di grande dimensione tra i membri di scp 1265 a e sono assenti la specie di dinosauri sauro in cui forse sono stati ritrovati in nord america per esempio la specie come il tirannosaurus rets e brachiosaurus non sono mai state avvistate dentro scp 1265 ma le specie come spinosaurus e chentrosaurus sono relativamente comuni facendo una proporzione che ora c'è un rapporto tra i dinossali non americani e dinossali del continente americano di 5 diviso 1 infine ci sono diversi sembrati scp 1265 a di cui non sono ancora stati scoperti i fossili che vengono denominati scp 1265 a i membri di scp 1265 a sono noti per essere insolitamente aggressivi e spesso caricheranno i ricercatori o tenteranno di attaccare gli altri animali all'inter di scp 1265 indiscriminatamente fino ad ora i ricercatori della fondazione non sono stati capaci di determinare l'origine di nessuno della maggior parte degli esemplari di scp 1265 a alcuni di essi sono stati identificati tra i reperti fossili e perciò sono stati classificati come scp 1265 a di particolare interesse gli esempi di scp 1265 a gli denominati di nuovo scp 1265 a generalmente perdono tutti i loro comportamenti aggressivi stando alla testimonianze storiche si ritiene che scp 1265 esista da almeno 200 anni molti scp 1265 a sono diventati parte integrante del folklore di diverse tribù nell'area intorno a scp 1265 per maggiori informazioni maggiori dettagli vedere l'interrogatorio 1265 01 note a piedi pagina uno tradotto lozzamente grande pitona due questo questo si crede sia un'esagerazione fino ad ora non è stata trovata nessuna prova di che sembra di spc 1265 a abbiamo mangiato esseri umani 3 colui che blocca i fiumi 4 ciò che sto scritto prima della scoperta della formazione di uzman in cina 5 nel 1982 dalle rasse ipotizzo che se non si fossero ormai estinti i trodons si sarebbero evoluti in un essere umano che viene chiamato dinosauroide non esiste nessuna prova che supporti questa tesi sai queste specie di strada classificata come m zauia su zauianus ok se il video vi è piaciuto come sempre vi lasciate un bel mi piace di continua a seguire la serie per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao